Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto veramente una grande partita, poi va bene, nel primo tempo abbiamo tolto il risultato, abbiamo cercato di concedere il meno possibile al grossetto e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Riguardo me, sì, sono contento comunque del campionato che sto disputando e devo continuare così, cercando sempre di migliorare giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e fare quello che mi chiede il mister, aiutare e dare il mio apporto alla squadra, come fanno tutti quanti. Ma comunque quando è iniziata la stagione con il ritiro e tuttora so che siamo tanti centrocampisti forti, però io dall'inizio della stagione, da come abbiamo iniziato a lavorare con il mister, ho sempre lavorato forte e sto lavorando sempre forte per cercare partita dopo partita di dimostrare al mister che posso ritagliarmi il mio spazio, che posso giocare il titolare. Poi comunque le scelte, come sappiamo noi giocatori, le fa il mister in ogni squadra e noi dobbiamo essere pronti ad accettarle e quando veniamo chiamati in casa dobbiamo dare il cento per cento e cercare di fare bene. Gli anni quando sono uscito dalla primavera sono stati, non dico negativi, però mi hanno fatto molto crescere, non sono stati dei migliori, però sono contento che quest'anno le cose stiano andando bene a livello personale, ma secondo me anche a livello di squadra, perché comunque abbiamo iniziato un percorso nuovo con un allenatore nuovo e con dei giocatori nuovi e dobbiamo avere fiducia in noi stessi, stiamo facendo un grande lavoro e dobbiamo continuare così adesso, a parte questo periodo che spero passerà presto e con la vittoria di ieri sicuramente dobbiamo dare seguito, però sono contento di come stiamo lavorando sia io che la squadra. Per fare questo lavoro c'è bisogno di una grande personalità, secondo me, quindi soprattutto nei momenti di difficoltà un giocatore deve farsi forza dei suoi punti di forza e deve cercare in tutti i modi di reagire, avendo appunto personalità e dimostrandola in mezzo al campo e secondo me in questo modo sia io che i miei compagni possiamo uscire da una situazione un pochino delicata. Io penso soltanto a Pescara, penso soltanto a quest'anno a fare bene, sono contentissimo di essere appunto in questa squadra, che tra l'altro è anche la squadra della mia città e sicuramente l'interessamento diciamo di altre squadre mi fa piacere, però io sono, come ho detto, focalizzato sul Pescara, non vedo l'ora di giocare ogni partita con questa maglia.